Buonasera Pasquale della Monaco, artista tutto tondo e animatore della compagnia regista della compagnia Vulcano Metropolitano. Buonasera Edoardo Esposito, attore e ideatore di questo progetto di cui stiamo per parlare, di questo spettacolo bellissimo. Sabato alle 17, domenica alle 11, Museo archeologico nazionale di Napoli, un viaggio affascinante che si chiama Il racconto di Alessandro. Naturalmente è Edoardo Alessandro Magno, il mosaico si anima, quello del Magno, diventa vita, diventa storia. Certo, il mosaico di Alessandro, la battaglia di Isto si anima, vengono fuori questi personaggi, da Davio III ad Alessandro IV, figlio di Alessandro, Olimpiade, Filippo, insomma, ma non saranno nella sala del mosaico perché lo spettacolo è appunto un viaggio, è itinerante. D'altronde parliamo di un personaggio che ha fatto 18 mila chilometri in 12 anni, quindi ci sembra dovevoso muoverci. Viaggiate anche voi. Pasquale della Monaco, ricerca storica, passione, lavoro e una compagnia straordinaria. Io ho cercato di mettere il punto della situazione sul Monte Eichia, creando degli attori di volta in volta che fossero fuori dagli schemi e quindi non le solite rappresentazioni. Che fanno in questo spettacolo? Sono i personaggi che ha citato Edoardo e all'impazzata esprimono la forza proprio del combattimento, della vita, ma sono abituati, sono abituati nelle varie tappe, al Teatro Grande di Pompei, al Mercadante. Edoardo, questo spettacolo ci parla di incontro di culture, ci parla di Oriente e Occidente che si incontrano in questo momento, insomma, molto utile. Molto utile, certo. Considerando proprio Alessandro, un giovanissimo, perché parliamo di uno che ha cominciato tra virgolette l'invasione dell'Asia a 20 anni con uno scopo vendicativo, che indicava quello che erano state le distruzioni dei persiani in Grecia un secolo prima. Ma a un certo punto, quando lui arriva in Asia, si rende conto che quei popoli che erano dall'Egitto all'India avevano voglia di cambiare. Lui riuscì ad operare questa integrazione. Pasquale della Monaco, insomma, il museo non museale è quello che piace davvero a tutti. È una gioia che ci ha dato il proprio Giulierini, un personaggio incredibile che il museo vive. E questa è la cosa bella che a me è sempre piaciuta. Finalmente si è realizzata. Ricordiamo dunque sabato e domenica alle 17 e alle 11. Grazie ai nostri ospiti. E parliamo adesso di...